Il rapporto con la tradizione e l'arte è un aspetto fondamentale del mio percorso. Perché? Perché è stato alle radici di quelli che sono stati i miei inizi a livello artistico, al di là del mio sentire personale fin da quando ero piccola. Però hanno fatto parte integrante della mia formazione e continuano a raccontare, a interagire con il mio percorso. La memoria artistica, la memoria storica comunque non deve essere mai perduta e deve diventare invece un filo conduttore per procedere, per andare oltre.